Stim Ferro SRL, azienda a conduzione familiare e leader nella zona che da oltre 30 anni opera nel settore del ferro e dell'alluminio. Tradizione artistica e artigianale sono alla base delle nostre produzioni, come grondaglie su misura e ferramenta per lattoniere, infissi PVC aluplast, capannoni in ferro di piccole e grandi dimensioni, scale antincendio, infissi legno alluminio e lavorazione alluminio, persiane in ferro, blindato, in alluminio e PVC, grate in ferro, stampaggio lamiere e taglio al plasma, centro curvatura infissi in alluminio, strutture per impianto fotovoltaico, canne fumarie e cappe. Inoltre la Stim Ferro è il rivenditore autorizzato Porte Nins, porte interne. Stim Ferro SRL, produciamo ferro e alluminio per tutte le esigenze. In zona industriale Asi Cervinara, Avellino, telefono 0824 84 47 31. Vasta esposizione in sede.